La prima cosa è che questa è una serata che abbiamo visto deve essere propositiva rispetto alle cose che ci siamo detti, anche perché abbiamo più volte ripetuto tante cose. Innanzitutto un ringraziamento a chi è venuto anche da fuori, tanti esperti, tanti professori che dopo faranno anche delle analisi e delle proposte. Però io ho tre cose che qui. La prima è che la comunità, sì, è da un uomo di giudizia che tre volte ha giocato la felicità alla insonazione e che penso in 27 anni che non mi ha mai gradi, ha la sforza di aver pagato alcuna dei prezzi per quello. Io vi devo ringraziare. Vi devo ringraziare. Grazie. 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 Grazie.